purtroppo ragazzi tutte le cose belle hanno una fine il mio anno in australia come sapete si è concluso a giugno scorso l'ultimo video della mia avventura in australia è stato pubblicato a gennaio è stato proprio il primo video dell'anno ed è una cosa un po buffa come il primo video dell'anno concluda una serie che per il mio canale è stato importante come quella relativa appunto al mio anno in australia riuscire ad adattarsi alla vita in australia inizialmente non è stato per niente facile ma è stato ancora di più abbandonarla quindi riabituarmi alla vita qui in italia la mia vita è assolutamente cambiata ed è cambiato anche il modo in cui io vedo la mia vita l'australia mi ha insegnato molte cose e spero in questo video in cui vi racconto le dieci cose che mi ha insegnato l'australia possa esservi utile magari per chi vuole affrontare questa avventura esattamente come l'ho affrontata io l'australia mi ha insegnato il significato di lontano l'australia mi ha insegnato che camminare scalza a volte fa bene anche all'anima l'australia mi ha insegnato che non importa quante persone ha intorno ma chi ha intorno l'australia mi ha insegnato che il vegemite può essere considerata una setta religiosa l'australia mi ha insegnato che le stagioni sono un'opinione l'australia mi ha insegnato che ciò che non ti uccide ti fortifica l'australia mi ha insegnato che il dipinto più bello del mondo sarà sempre il cielo l'australia mi ha insegnato che sia sempre all'altezza l'australia mi ha insegnato che ricominciare la propria vita da zero può essere estenuante ma è molto meglio se c'è il sole per 300 giorni all'anno l'australia mi ha insegnato che tornare non è ritornare tutto è come prima ma qualcosa è cambiato completamente io spero che questo video vi sia stato un pochino di ispirazione soprattutto se state per partire o se siete già tornati dalla vostra esperienza in australia che abbiate potuto ritrovarvi nelle mie parole per questo magari vi invito a lasciare un like a condividere il video se avete qualche altra cosa personale da condividere sulla vostra esperienza in australia o su come sta andando se siete già la potete lasciarmi un commento io vi invito come al solito a seguirmi sui social trovate tutti i link in descrizione appunto per seguirmi in diretta spero che vi iscriverete al mio canale noi ci vediamo al prossimo video have a nice life